ve ringrazio de core brava gente questi presepi che me preparate ma che li fate a fa si poi votiate si destamore non capite niente pestamore son nato e ce son morto da secoli lo spargo dalla croce ma la parola mia pare una voce sperduta nel deserto senza ascolto la gente fa il presepe e non me sente cerca sempre de fallo più sfarzoso però c'è il core freddo e indifferente e non capisce che senza l'amore è cianfrusaia che non c'ha valore grazie